Ben ritrovato in questa postazione Cristian, primi 20 minuti era Galano contro l'Olbia, hai fatto un'ottima partita, il tuo campionato inizia oggi? Me lo auguro, ho fatto i primi 20 minuti benissimo, poi per il momento della partita non siamo riusciti più a cercare le giocate giuste e andare verso la porta. Però credo che complessivamente, personalmente ho fatto una buona gara e quindi spero che da oggi parta un nuovo campionato per me e per tutti. I tifosi hanno apprezzato molto e ti hanno applaudito al momento della sostituzione? Sì, sì, ma li ringrazio, ma non c'ho nulla contro io, personalmente non c'ho nulla contro nessuno, li ringrazio e quindi spero di fare bene e di regalare qualche soddisfazione anche a loro. Dove è stato bravo il Pescara oggi secondo te? Beh, oggi abbiamo fatto, siamo partiti un po' tesi, abbiamo sbagliato un po' alcune cose, alcune scelte perché loro ci giocavano tra le linee, giocavano bene, non riusciamo mai ad andarli a prendere. Però credo che complessivamente oggi il risultato era quello che dovevamo fare, il risultato, vincere. Penso che ci siamo riusciti anche soffrendo perché oggi è stata una partita sofferta e niente, ci prendiamo questa vittoria anche e soprattutto per il morale perché venivamo da varie vecchie partite dove non avevamo fatto grandi cose. Ti chiedo un'ultima cosa Cristian perché devi andare via, ti chiedo di raccontarci dopo dieci minuti quell'occasione dove Ciocci è stato veramente bravo perché in Zita ti ha messo un pallone teso che ti ha dato anche ritmo e tu hai calciato anche bene. No, no, è stato bravo Zita a mettermi con la palla e mi sono fatto trovare pronto, poi è stato bravo il portiere, ha fatto una grande parata, forse se stavo in un altro momento forse la palla sarebbe entrata, però va bene così, sono contento della prestazione oggi perché comunque non giocavo da tanto tempo e non era facile per me giocare, invece credo di aver fatto una buona gara. Soprattutto ora c'è il Manuzzi di Cesena che è uno stadio da Serie B e lì si può giocare un gran calcio. Sì, sì, me lo auguro, andiamo a giocare una partita importante contro un avversario forte, quindi ora cancelliamo questa partita perché comunque ci sono tanti aspetti da migliorare perché oggi anche noi lo sappiamo che comunque non abbiamo fatto una grandissima partita e quindi andiamo a Cesena per fare risultato ancora e continuare su questa scia. Ben tornato, speriamo di vederti spesso qui, vuol dire che hai fatto una grande partita e magari gol.